Signaco parte il nuovo progetto per la raccolta differenziata nel comune di Fisciano, l'obiettivo è quello di aumentare la percentuale e migliorare la qualità del servizio. Sì, partirà questo nuovo calendario di raccolta differenziata che ci dovrà consentire di aumentare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata, che già abbiamo a livelli che superano l'80%, ma soprattutto di migliorare la qualità del prodotto raccolto in modo tale da fornire ai consorsi un prodotto ancora migliore. Questo progetto nasce tra la collaborazione tra la Fisciano Sviluppo, la nostra società partecipata, la Comieco e il Conai. Quindi ci saranno una serie di adeguamenti rispetto alla normativa europea sui colori dei vari tipi di studi, sui vari codici che saranno sistemati. Per quanto riguarda invece la carta e il cartone non ci sarà più il sacchetto di plastica, ma ci saranno dei masterli in PVC che permetteranno di non far degradare in attesa di raccoglierlo la carta e il cartone. Quindi saranno consegnati ovviamente e gratuitamente a tutti i cittadini questi mastelli e partirà orientativamente da aprile questo nuovo calendario. Grazie anche alla collaborazione di tanti cittadini che sono diventati i cosiddetti facilitatori, hanno fatto un corso dove spiegheranno e gireranno sul territorio per spiegare il nuovo modello di raccolta differenziata che vogliamo portare sul nostro territorio. Ovviamente tutto potrà riuscire grazie alla collaborazione soprattutto dei nostri cittadini che però si dimostrano sempre sensibili a queste nuove iniziative.